Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di sabato 22 gennaio. Sono le 22.45, arrivo da un corso che è durato dalle 8.30 alle 8 più o meno e mi auguro che tutto quello che è stato dato alla persona che è venuta ad imparare l'evoluta lo porti oltre quello che già sono arrivato a fare perché è importante che chi trasferisce una materia lo faccia nel modo migliore perché chi la riceve lo superi ancora. Prima di tutto vi ringrazio molto per tutti i complimenti che continuo a ricevere nei commenti. Siamo diventati più di 7.000, stiamo crescendo veramente in maniera rapida. Mi auguro che sia per il fatto che si va target in continuazione. Che cosa è successo? Uno dei primi target che avevo dato era questo a 37.000, l'avevo scritto anche nella precedente analisi. Ok? Questo qua. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati già sotto. Siamo andati anche a fare un minimo a 33.855. Era importante iniziare magari a capire che cos'era questa evoluta che ci diceva in tempi non sospetti il 16-11 che invece che andare a fare i 95.000 per Natale saremmo andati giù? I fatti parlano per l'evoluta stessa. E facendo sempre un'opera di informazione nei confronti di tutti soprattutto di chi si approccia da pochissimo a questa materia e può vedere dei video gratuiti di Trading Days che iniziano a farvi respirare l'aria anche soltanto della ciclica vorrei ricordare che questo è stato il primo ciclo mensile inverso il primo t più 2 del t più 3 inverso e anche t più 4 inverso semestrale e anche annuale inverso partito da qui sopra. È individuato dopo quante barre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in violazione di questo swing. 7 barre per capire che da qui sopra poteva partire solo con 7 barre che lanciano che cosa? Un settimanale inverso rialzista lancia un mensile inverso. Grazie allo swing avevo già iniziato a dire guardate che parte più di. È un annuale inverso per chi ancora sta iniziando e approccia questo canale dura quanto? Dura almeno 200 giorni circa, un po' meno. In media 256 e al massimo un 336. Ecco perché ho avvisato le persone che anche se fosse stato per quanto riguarda i cicli AU inversi ribassista ovvero avesse sviluppato il suo massimo che sarebbe un minimo per i prezzi qui e poi si fosse girato a salire comunque si sarebbe scesi. Avevo dato all'inizio questo target poi se l'ho spostato a 37 e adesso rivedendolo durante il corso il prossimo target raggiungibile può essere il minimo da cui è partito l'annuale. 29.313 prossimo target. Questo che cosa causerebbe? Quando e se ci arriveremo ma temo che ci arriveremo causerà il vincolo a ribasso di tutto questo annuale se capiterà. Ok? Io inizio a darvi un anticipo di quello che può succedere perché come detto in continuazione quando c'è stata la violazione di questo swing ho continuato a dire può essere partito un t più 5 inverso da qui sopra e adesso vi posso dire che può essere partito ancora qualcosa di più per cui in questo momento la cosa che può avere più senso effettivamente è iniziare a fare così giusto perché tutti comprendono perché possiamo fare così e dire che da qui è partito un t più 5 inverso perché siamo stati sotto questo massimo per almeno un mensile più un altro mensile ovvero un trimestrale un sotto ciclo rialzista perché l'inverso parte dai massimi sviluppa minimi e ritorna su e rialzista questo sarebbe rialzista lato prezzi indice già intero siamo a 74 barre sul massimo 84 ma sono 10 giorni e in questi 10 giorni che cosa potremmo fare? potremmo fare alcune cose prima di tutto da qui è partito un mensile questo mensile si è già vincolato completamente a ribasso se tutto verrà confermato dato che da qui a qui non possiamo aver avuto un mensile perché siamo andati oltre come data come duata quando verrà confermato e siamo a 12 giorni quindi un t più 1 che viene dopo un t più 2 non c'è l'opzione d'accordo c'è un grandissimo death cross qui che avevo annunciato quando eravamo qua come death cross guardate che se continuerà a scendere la media veloce verso il basso si inaspirà la discesa andatevelo da lì video prendete tutti quelli a partire da 16-11 in avanti fino a quando non abbiamo preso questo short noi eravamo dentro quando siamo scesi a quel punto però come quando qui siamo andati a dire ma come mai un annuale inverso può durare i 210 giorni ovvero poco più dei 200 circa che sono utili lo può fare perché se durante un movimento estremamente rialzista questa roba qua ok i cicli di indice mediamente si allungano i cicli normali quelli che partono da minimi massimi minimi minimi massimi minimi si allungano il più possibile come durata quelli di inverso si accorciano e quindi appena si supera una durata che si conosce a memoria perché si conosce a memoria la nostra tabella e scatta l'allarme gli inversi si contraggono gli indici si allargano 200 giorni uguale attenzione che da qui può essere partito un annuale inverso un annuale inverso ribadisco se dura come minimo 200 giorni e anche soltanto neutro neutro vuol dire che scende poi ritornerà a questa altezza e noi non lo sappiamo se è neutro per ora sembra rialzista e quindi sembra che spinga molto forte verso basso perché nelle dispense che bisognerebbe conoscere a memoria noi abbiamo che dov'è che viene fatto il massimo di un ciclo se è un ciclo rialzista e alla fine parto da qui se questo fosse un annuale se avessi avuto qua e poi chiusura di annuale ma non è un annuale questo questo è un annuale se avessi avuto i massimi alla fine sarebbe stato rialzista giusto se invece avessi avuto un ciclo ribassista se questo fosse stato un annuale e sviluppato i massimi e poi non li avesse più superati sarebbe stato ribassista questo annuale che tipo di annuale può essere se ha sviluppato i massimi o il massimo per ora al suo centro può essere non più rialzista fine dei cicli rialzisti è sceso troppo è già un ciclo neutro di per sé e in più noi siamo arrivati a 186 barre dopo l'intuizione che da questo massimo avevamo fatto un tre tempi primo t più tre inverso ovvero primo trimestrale inverso a u secondo trimestrale inverso a u terzo trimestrale inverso a u e qui non potremmo vedere se sta per arrivare lo stesso o comunque primo secondo terzo sappiate che più ci avviciniamo ai 192 giorni minimo di durata del ciclo annuale e più farò attenzione a qualsiasi ribalzo avremo e temo che se da qui è partito un ciclo mensile che è arrivato soltanto a 12 giorni su minimo 24 i rimbalzi dovranno essere shortati e manca poco e ormai da qui a qui per arrivare a 29.313 dai 33.000 sono 4.000 erotti tic qui ne abbiamo fatti di più siamo partiti dai 68.000 e siamo scesi a 35 abbiamo quasi dimezzato la capitalizzazione anzi col minimo a 33.855 abbiamo dimezzato la capitalizzazione bear market vedo ancora gente che fa video per dirvi cosa succede il bitcoin che mette il punto di domanda dopo la domanda ma siamo in bear market ecco la mia domanda è scusa un attimo ma non ti sei accorto che siamo scesi di più del 20% di tutta la capitalizzazione di bitcoin da qui a qui perché se ti chiedi ancora se stiamo andando a fare un bear market ma guarda che ci siamo da tanto tempo e abbiamo fatto un primo momento e il secondo ci sta spingendo alla metà della capitalizzazione totale da questo massimo qua il massimo è a 68.958 facciamo 69.000 oggi abbiamo toccato i 34.000 qui abbiamo perso il 50% del prezzo perché avvisavo che gli odler che da qui poteva partire un t più 5 inverso perché la prima missione di una persona che fa trading in maniera professionale ed etica è avvisare chi purtroppo magari appena è iniziato che ci sono dei rischi per il resto dato che comunque preferisco ragionare anche di breve ma domani faremo un'analisi più grossa ed è giusto che vi facciate le ossa da soli senza di me alla guida tutti i giorni specie se è un corso e se investo del tempo con una persona che investe tempo con me ricordiamoci che da qui è partito appunto il mensile che è già tutto ribassista poi abbiamo avuto un primo settimanale che è chiuso qui tra un settimanale e un settimanale abbiamo avuto un raccordo del grado corretto con la definizione corretta di raccordo poi abbiamo fatto partire con la durata minima e la violazione dello swing tutto corretto un secondo t settimanale a quel punto lì fatto partire il secondo t settimanale scendendo sotto questo minimo ci siamo vincolati a scendere abbiamo immediatamente capito che non era più possibile ritornare sopra i 45.445 che era il target dato dato se col terzo t fossimo andati a chiudere il trimestrale inverso non siamo andati a chiuderlo qui abbiamo la chance di poterlo chiudere quanto tempo manca alla chiusura del secondo t più 2 inverso del secondo mensile inverso a me pare che siamo a 27 barre su massimo 43 e se siamo a 27 barre su 43 se la matematica non è un'opinione ne mancano 16 barre alla chiusura può ancora andare molto più giù e poi tornare su se ne mancano 16 questo che il quarto t inverso che è arrivato a 3 giorni può fare anche 5 6 7 chiudere all'ottavo o chiudere al sesto chiudere al settimo con un piccolo rialzo e poi può partire il quinto t inverso e il quinto t inverso può essere quello finalmente della chiusura basta che partito a un certo punto dopo 2 barre sopra il massimo da cui parte ritorni sui sui passi ritorni su tutto il resto del tempo proverà a spingere su per quanto potrà durare e fino a un massimo di 16 giorni complessivamente questo è l'ultimo settimanale inverso del mensile inverso possibile ma possibile anche di no se si sale per i prossimi 3 giorni poi si scende per 2 e poi ci si rivincola rialzo sarà il quinto t inverso che provverà a risportarci su e che già diventando ribassista dopo aver fatto la condizione sufficiente per la sua partenza ci porterà in chiusura del trimestrale inverso non avete capito vi fermate dopo aver ascoltato questa analisi una prima volta chiudete tutto andate a dormire fate altro domani la riascoltate non vi è di nuovo chiara il suggerimento è dentro questa analisi c'è talmente tanto che bisogna capire che studi avete fatto voi quanto siete capaci a ragionare di trading e poi di ciclica normale e poi di evoluta per capire che effettivamente quando uno dopo pochi giorni che si scende vi dice che può partire un annuale inverso si scende mentre tutti si aspettano perché si scende a dicembre e si fa la violazione a metà novembre scusate la violazione mentre tutti si aspettano che cosa un ATH a 95.000 ma noi siamo a 35.000 siamo a quasi un terzo di quello che con alcune tecniche vi mi hanno detto che sarebbe stato possibile fare dove saremo arrivati siamo un terzo quanto vale quel tipo di analisi o proiezione o chiamatela come volete perché non so neanche più come chiamarla non lo so me lo dite voi io non esprimo opinioni come ben vedete parlo di dati parlo di candele parlo di tempo per cui facciamo la veloce ok sotto questo minimo se andremo sotto questo minimo prima delle 24 candele sono sempre le 24 candele noi siamo a 16 noi se ci andremo in diciottesima diciassettesima ventesima barra andremo qui sotto valutiamo ma ancora short perché anche qui death cross tentativo di andare in golden si gira dall'altra parte e si scende valenza degli indicatori nessuna perché stavate per andare long vi si gira contro a livello di volumi il vostro bitcoin e voi sprofondate giù come vi dice chi l'è voluta appena andate in violazione di questo minimo sapendo che da qui è partito un nuovo t settimanale perché qui c'è stato un raccordo del grado corretto per interporsi tra un t settimanale e un altro t e a quel punto lì se invece non si va qui sotto ma si va qui sopra sopra al massimo a 36.178 prima delle 24 bar sempre le 24 bar è troppo divertente e noi siamo a 12 se si va qui sopra c'è la possibilità perché non è detto che si è partito da qui il terzo t inverso non ho messo lì adesso me ne sono accorto tra l'altro che potrebbe essere ancora a 40 bar ma c'è la possibilità se superassimo la media mobile a 50 periodi e anche la cumo di avere effettivamente poi un terzo ciclo giornali inverso questo è il secondo e questo è il terzo giù con soltanto la ip perché è l'inverso che si sia appena vincolato a ribasso per l'inverso però spinta a rialzo per minimo 24 barre e come dicevamo qui ne abbiamo fatte 12 questo è quanto per oggi e per tutti domani arriverà magari nel pomeriggio un'altra analisi prima della night se ci saranno le condizioni e nel frattempo nel premium ragioneremo del da falsi nello specifico a ognuno il suo grazie per il vostro tempo vi auguro una splendida 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 domenica questo sabato è stato favoloso anche se un po' faticoso se l'analisi vi ha dato degli spunti anche soltanto grazie a tempo e swing di massimo e di minimo siete più di 7000 qualche like come una pacca sulla spalla me lo aspetto da chi è generoso da chi farà parte del circolo virtuoso e preparatevi perché a poco tra poco arriverà l'informazione sulla piattaforma su cui vedere i volumi come detto buona serata a tutti